È una grande conquista per Rossini TV avere finalmente un programma dedicato al basket, dedicato alla VL. Sono molto felice come direttore di questo emittente di poter dare questo annuncio a tutto il nostro pubblico da tanti anni, comunque almeno tre da quanto esiste questa TV, tanti nostri telespettatori ci chiedevano perché non dedicate uno spazio al basket e finalmente adesso vi accontentiamo, quindi tutti i giovedì avrete questo spazio dove sarà un confronto, un dibattito sulla VL Basket Pesaro, la Carpegna Prosciutto appunto, daremo aggiornamenti, questo ormai lo andrete a vedere personalmente voi. Comunque grazie chiaramente a Luciano Amadori, grazie a Dario Costa e grazie a tutto lo staff della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro per aver creduto in noi di Rossini TV. Il momento è brutto, lo conosciamo, il pubblico purtroppo non può venire a vedere la squadra, i tifosi non possono darci quell'entusiasmo, quella carica che hanno sempre fatto e quindi tutto quello che fa sì che si parla, si può vedere qualcosina, si può commentare in televisione stando sul divano, quindi è una bella iniziativa di TV Rossini, e noi siamo contenti, speriamo di collaborare e di dare un prodotto simpatico e carino per farci passare 40 minuti spensierati. Ed è anche un riannodare il filo con un certo rapporto fra squadra e TV che non aveva da tempo questa vetrina. Sì, io adesso non ricordo ma di sicuro sono passati tanti anni per essere tornati a una trasmissione dedicata al basket di Pesaro, a Pesaro. E cominciamo con un bel biglietto da visita, la prima puntata arriverà dopo questa bella vittoria a Roma. Ma sì, non poteva cominciare di meglio, una bella vittoria, una vittoria che ci dà punti, carica e fiducia, adesso abbiamo due turni in casa, bisogna approfittarne. Un programma che mancava nella nostra città, sono contenta anche perché in momenti come questo, in cui lo sport ha subito una battuta d'arresto, poter continuare a parlare di sport, avere lo sport dentro le nostre case, parlare della VL, il giovedì è importante, insomma ci aiuta ancora a essere uniti, anche se non si potrà andare al palazzetto dello sport, ma è come avere il palazzetto dello sport dentro casa nostra. Ci fa piacere essere qui, sono convinto che sarà una cosa molto bella, con il tempo verrà fuori sicuramente una bellissima trasmissione che affineremo di volta in volta e ci fa molto piacere, siamo onorati di questo, ci fa piacere, soprattutto in questo momento di lockdown, poter andare a casa di tutti i nostri tifosi, anche quelli fuori città, perché chiaramente Rossini TV arriva in tutta la regione e sicuramente troveremo il modo di, spero, portare anche qualche consorziato, chi avrà piacere, li vedremo di volta in volta, perché sono loro la base, il cuore di questa società, consorziati, sponsor, quello che è il main sponsor, insomma tutto quello che ne segue, perché è bene che la gente capisca gli sforzi che fanno anche queste aziende, queste persone per sostenere questa realtà.